La priorità è la ricostruzione leggera? Sì, accelerare appunto la ricostruzione leggera, ovviamente in un quadro più ampio nel quale dobbiamo assolutamente potenziare tutti gli uffici che in questo momento si stanno occupando di ricostruzione primo su tutti l'ufficio speciale, l'ufficio speciale che va potenziato sia in termini di risorse umane che risorse finanziarie, risorse umane qualificate perché la situazione che abbiamo vissuto fino adesso è assolutamente inaccettabile e il fatto che il vicepresidente Lolli, ora presidente reggente, abbia accettato, accolto fin da subito un incontro con il sindaco di Teramo, città-capoluogo, è un segnale importantissimo sia rispetto a Teramo ma a tutto il criterio sismico che un partito di riflessione della nostra provincia ma anche un segnale importante rispetto alla nostra preoccupazione che in questa fase che accompagnerà la regione alle elezioni non ci sia assolutamente un abbassamento dell'attenzione. Lolli ha detto che la ricostruzione, il poste remoto sarà la sua priorità Ne sono certo anche perché ha vissuto purtroppo la tragica esperienza dell'Aquila e questo per noi è senza dubbio, questa per noi è senza dubbio una garanzia lo pungoleremo, lo stimoleremo non solo come Teramo per la città di Teramo ma per tutto il criterio sismico nel quale Teramo deve svolgere il suo ruolo di capofila purtroppo la situazione teramana in questo contesto è drammatica sia per quanto riguarda la ricostruzione privata ma anche pubblica con particolare riferimento alla situazione ATER abbiamo interi quartieri spopolati, penso a Colle Atterrato rispetto ai quali vanno fatti degli interventi specifici perché veramente la situazione è drammatica.